Ben ritrovati negli studi di Caritas Insieme. Ottobre è tradizionalmente il mese dedicato alla missione che anche nella Svizzera italiana sarà ricordato il prossimo fine settimana con alcune manifestazioni sotto il moto 7 di vita. Abbiamo gradito ospite per parlare di missione, il nostro vesco Pier Giacomo Grappa, che ringrazio per la sua presenza. Per parlare di missione partirei all'inizio con l'ultimo messaggio di Giovanni Paolo II che ha scritto proprio per questa giornata missionaria mondiale, dove coniuga eucaristia e missionarietà, portando in evidenza il lavoro dei missionari, che a volte diventano anche martiri, come proposta ai giovani soprattutto, ma in genere alle persone di buona volontà. Possono essere questi missionari un esempio per la vocazione generale per la Chiesa? Direi proprio di sì nella misura in cui realizzano con una pienezza e una totalità esemplare i presupposti e i contenuti di ogni missione, una partenza che li stacca dal loro contesto precedente, per una dedizione totale al nuovo ambiente che vanno per evangelizzare nella completezza del messaggio cristiano, che non è mai un messaggio solo spirituale disincarnato, ma è un messaggio concreto, pieno, incisivo che prende tutto l'uomo e lo promuove verso un appagamento di ogni sete che l'uomo ha, non solo la sete materiale, fisica, ma anche la sete di senso, di spiritualità. Passiamo alla sua ultima lettera pastorale, Signore, da chi andremo? Anche in questa lettera lei accenna alla missione, alla missionarietà, all'impegno dei sacerdoti, dei laici e traggo da questa lettera due punti importanti, la chiamata e la parola. Innanzitutto la missionarietà letta da un punto di vista cristiano, cattolico è percepita come un invio, uno viene inviato quando è chiamato, quindi non è una semplice disponibilità al volontariato, mosso solamente da esigenze sociali, economiche, antropologiche, umane, ma pur dentro questa realtà la percezione di una voce, di una chiamata che venendo dall'alto dà un senso di pienezza e un orizzonte di completezza a questo invio. È importante sentire che il missionario non va per sua iniziativa, per sua benevolenza, per sua generosità soltanto, ma che risponde di quello che è, di quello che fa alla chiamata superiore del Signore, che dà orizzonti di un'ampiezza nuova e inimmaginabile storicamente, perché la chiamata è risposta alla parola del Signore, alla sua presenza nella storia, alla incarnazione del Figlio di Dio che è parola vivente e che deve venire tradotta nelle realtà storiche concrete che sempre mutano di bisogno, di attenzioni, di problematiche nuove. Credo che una visione così non fa che dare maggiore pienezza all'invio di volontariato antropologico, umano, sociale, economico, che porta poi fino alla generosità del donare la vita, fino alla generosità del martirio, proprio perché c'è questo appello superiore che è capace di far donare anche la propria vita per la missione. La diocesi di Lugano da quattro anni ha una missione, un progetto missionario nel Chad, nella diocesi di Mbikù. Abbiamo sentito a questo proposito la testimonianza dei coniugi Pagnamenta che sono rientrati all'inizio di quest'anno sui loro tre anni e mezzo di esperienza. Perché siamo partiti? Perché per noi era fondamentale che questo progetto fosse diocesano. Dunque un cammino che abbiamo fatto in diocesi prima di partire, un cammino che abbiamo continuato in Africa e un cammino che stiamo facendo adesso qui in Ticino ancora, tornando nella nostra chiesa. Il desiderio è veramente condividere e donare agli altri quello che abbiamo potuto vivere in Africa per fare un cammino insieme. Questa diocesanità è un aspetto molto importante, questa esperienza di una chiesa universale. Questo ti permette di avere uno sguardo su le problematiche, ma anche su le belle cose della nostra chiesa con occhi nuovi. La chiamata parte da un desiderio, da un sogno nel cassetto che avevamo quando ci siamo incontrati. Questo sogno è cresciuto nell'impegno ecclesiale nella chiesa ticinese prima di partire. Dopo la paura di non sentirsi all'altezza di un impegno, di un impegno del genere, lo stare con la gente ci ha permesso di entrare in punta di piedi e di conoscere le loro tradizioni. E una cosa che mi sconvolgeva tutte le volte era il valore che danno alla morte. Dicono sempre quando muore un bambino, una persona, il è partì e basta, soffrono sicuramente così, ma è dentro nella loro vita questo e tante volte vedi anche i genitori che non lottano sufficientemente per dare la vita al bambino, per salvarli, per avere dei soldi per portarli al dispensario e questo come bianco comunque ti sconvolge veramente. Io sono partito e il francese non era il mio forte, anzi diciamo che il francese io l'ho imparato in chat e questa era una mia paura, visto che la lingua che si usa è il francese, questa era una mia paura di, oltre tutte le altre difficoltà, la comunicazione, non avere la possibilità di comunicare liberamente con alcuni di queste persone, i più formati, i catechisti e quelli che il francese lo parlavano bene o male. Questa mia debolezza, questa mia incapacità si è rivelata una chiave di entrata, il chiedere a loro quando non capivo qualcosa o come si diceva, come si chiamava una cosa in francese, questo mi ha permesso di farmi accettare anche non come professore ma come loro che è lì per imparare, per apprendere. La famiglia diciamo che è veramente una cosa molto diversa dalla nostra perché hanno una vita veramente molto separata la coppia, per esempio non mangiano insieme, non dormono insieme, i bambini li crescono prima la donna e poi l'uomo, dunque è veramente una cosa molto separata che all'inizio questo per noi è stata una difficoltà perché non ci ha permesso di cominciare subito il lavoro con le coppie ma abbiamo dovuto aspettare più di un anno per capire la loro cultura, perché vivevano così, perché noi non potevamo arrivare con la nostra e dire, boh, non si fa così. Il lavoro era un po' cercare di trovare dei punti, dei nominatori tra il loro matrimonio tradizionale e il matrimonio cristiano, quello che cerchiamo di vivere i due marti. È un'esperienza così, comunque ti ritrovi a vivere 24 ore su 24 con tuo marito, sei sempre insieme e fai un cammino, dunque le difficoltà è così, le vivi sempre insieme, questa vita come dicevo prima che continui a vivere la morte davanti agli occhi ti aiuta veramente a rinforzarti, a essere sempre più unito e possiamo dire che la prighiera durante questi anni ci ha aiutato veramente tantissimo durante questi tre anni e mezzo, perché quando eravamo veramente giù di morale, quando c'erano tantissime difficoltà, pregavamo tanto e il tesoro che ci portiamo a casa comunque è questa importanza che abbiamo scoperto ancora di più laggiù del dialogo, di essere sempre aperto all'altro e di fare sempre e decidere sempre le cose insieme. Esperienze di questo tipo, cosa possono portare per valorizzare nella nostra diocesi quello che lei chiede di aprire a tutti? Innanzitutto vorrei dare una testimonianza sulla attività di Marzia e Claudio che ho potuto constatare di persona, verificare in loco durante il mio viaggio, a proposito del quale stiamo preparando con gli amici che con me hanno visitato il Chad, un piccolo volume che raccoglie alcune pagine mie di diario e anche considerazioni e interventi di altri partecipanti al viaggio, anche una testimonianza di Marzia e Claudio, un'intervista al Vescovo di Dobà, Monsignor Michele Russo, un volume che dovrebbe essere pronto per la giornata missionaria e che mettiamo a disposizione, non solo perché il ricavato va dalla missione, ma anche perché si possano ricavare elementi utili per noi e vengo alla sua domanda. La missione deve essere intesa in questo spirito di reciprocità che Marzia e Claudio hanno coltivato nella loro esperienza ambicù, innanzitutto rafforzando il loro rapporto di coppia e vivendolo in una reciprocità sempre più piena e sempre più intensa, Marzia e Claudio ritornando forti di questa esperienza ci aiuteranno a capire che nella Chiesa a contare sono gli uomini e non le strutture e le istituzioni. Ci può anticipare qualcosa che magari l'ha colpita particolarmente dell'esperienza in Chad? Mi ha colpito questa Chiesa nuova, i cattolici sono presenti solo da 70 anni, in 70 anni sono cresciuti da zero a circa un milione, si sono organizzati in sette diocesi e vivono un'esperienza ecclesiale molto coinvolgente. Prendiamo la diocesi di Dobà, non ha che una quindicina, non so se arrivano a venti i preti, ma ha tanti catechisti laici presenti nei villaggi a fare da cinghia di trasmissione. Questa esperienza di piccole comunità di base, come lievito, come sale dentro la realtà della gente mi è parso molto importante e significativa, quasi un cristianesimo che lievita dal basso e non che viene inculcato dall'alto, che entra dentro il vissuto concreto per il lavoro, per i problemi della salute, della scuola, della famiglia che sorge con le sue esigenze, con le sue risposte dal basso. Credo che questo può essere per noi un importante punto di riferimento e di trasformazione, conversione del nostro modo di fare pastorale. Una missionarietà al contrario, potremmo chiamarla così, nella nostra diocesi abbiamo alcuni sacerdoti che vengono da paesi terzi, anche dall'Africa. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di Don Frank Essico Fivicario Pregassona, ascoltiamola insieme. Essere missionario per me significa essere uomo accanto agli altri uomini. Questo mi permette di rispondere a questa chiamata o questo invito, questo mandato dato da Gesù stesso ai Suoi discepoli dopo la risurrezione andata di tutti i popoli fatte miei discepoli. Il mio voglio essere qui come sacerdote dall'Africa è solo portare una testimonianza di questa mia fede che ho ricevuto e che sono riuscito a crescere grazie anche all'educazione ricevuta dai miei genitori e con l'aiuto anche dei sacerdoti missionari che sono venuti da noi, essere testimoni di quella fede condividendola in un altro modo con questi amici con il quale io vivo questa fede in questa diocese di Lugano. L'esperienza missionaria in Colombia è stata un'esperienza bellissima, anche se non nascondo gli aspetti anche a volte un po' violenti, vivere da missionario un terra di missione come quella di Colombia consiste proprio non solo andare a celebrare le sacramenti ma soprattutto accogliere l'uomo, ascoltare l'uomo, prenderlo così com'è e poi provare proprio a sostenerlo, ad aiutarlo nella situazione a volte di povertà e di miseria nella quale concretamente si trova. Per noi essere missionari, così come diceva il vescovo komboniano Daniel Komboni, l'Africa deve essere salvata dagli africani e quindi è una vantata nuova che lui ha portato. Ha capito che per uno che arriva forse dall'Occidente ci sono vari aspetti che non sono comprensibili, invece per qualcuno che è di quella cultura, riuscire a parlare di Gesù Cristo ai propri fratelli consisterebbe proprio a entrare in certi ambiti che permetterebbe meglio di rendere nella sua, realizzare proprio questa inculturazione, cioè aiutare anche la cultura, la fede in Gesù Cristo a entrare nella cultura africana e questo è molto importante, deve essere fatta proprio dagli africani, sostenuti pure anche da missionari, anche se arrivano dall'Europa benvengono. Riuscire a trasmettere la parola di Dio ai propri cristiani come missionario per me significa prima di tutto essere testimone, perché per me l'importante della fede è che deve essere vissuta, non possiamo essere sacerdoti, parlare del Vangelo senza vivere il Vangelo. Ma su questo fenomeno dei missionari che dal terzo mondo vengono da noi, forse vale la pena di soffermarci perché è un fenomeno delicato e complesso. Io lo leggo innanzitutto come un segno di maturità della dimensione cattolica della Chiesa, il fatto che non si vada solo da parte delle nazioni del vecchio continente europeo in una direzione, ma che nasca questa reciprocità mi pare di doverlo cogliere come un segno di maturità. La cattolicità, l'universalità della Chiesa si sta realizzando con una nuova pienezza in un modo significativo. Un altro elemento da tenere presente nella lettura di questo fenomeno è l'utilità che noi ne ricaviamo, perché da noi purtroppo le vocazioni sono in crisi e quindi abbiamo bisogno di questo apporto. Dobbiamo però fare attenzione che questi sacerdoti, missionari, testimoni che vengono dall'Africa, dalle Filippine o dal Sud America non si impiantino in modo definitivo da noi, dimenticando i bisogni delle loro nazioni e dei loro paesi di provenienza, soprattutto se vengono da noi per studiare, devono poi sapere e poter rientrare nei loro paesi per continuare la costruzione della Chiesa là. Mi scusi, questo è un messaggio forte che lei sta lanciando? Ma io di questo sono convinto, possono dare a noi un servizio, ma devono anche avere questa consapevolezza che il loro ambiente naturale li richiama. È vero, hanno tante vocazioni per cui possono permettersi di metterle a disposizione dell'Europa, come quando noi avevamo fine 800, inizio 900, tante vocazioni le abbiamo messe a disposizione. Come possiamo fare perché ritornino a fiorire le vocazioni anche missionari o sacerdotali o comunque di vita religiosa da noi? Io credo che bisogna intensificare la pianta, la fede, la vocazione è un frutto, se è andato in crisi questo frutto è perché l'albero a un certo momento non è stato nutrito in modo conveniente, quindi intensificare una coerenza, una pienezza di vita cristiana, di preghiera, di ascolto alla parola, di esempi vissuti e dati, perché anche da noi possa esserci una ripresa delle vocazioni per noi e per i paesi di missione. Io su questo suo invito la ringrazio per la partecipazione alla nostra trasmissione e saluto i nostri telespettatori. Grazie a tutti! Grazie a tutti!